60 minuti in inferiorità numerica due grandi giocate di gentile cittadino una gara a gagliarda che però certifica la quinta sconfitta consecutiva per la fidelissandria ed il ritorno immediato al successo invece per il foggia dopo lo stop con il sorrento è un derby bagnato quello del degli ulivi su cui la pioggia arriva proprio ad inizio gara con un vero e proprio diluvio il terreno di gioco però tiene ma il 3-5-2 messo in campo da corda con il recupero di anelli e viscomi in difesa ed il tandem iada resta tortori in avanti punta ad aggredire con costanza la squadra di casa già dalla propria metà campo catalano invece punta nuovamente al 4-3-3 con qualche scelta importante come quella di inserire tedesco dal primo minuto in avanti al fianco di palazzo e variale torna in campo anche l'esterno zingaro anche se la sua gara durerà molto poco tanta pioggia e praticamente nessun pericolo per le due porte sino alla mezz'ora quando da un'azione sviluppata sulla destra iada resta a colpire di testa a botta sicura ma segantini è miracoloso a deviare con una mano la sfera è una prima scossa al match che purtroppo per la fidelis cambia completamente il suo volto al 33esimo zingaro interviene in modo scomposto a destra su viscomi intento a rinviare la sfera dalla sua metà campo e per il direttore di gara molto contestato durante il match dalla fidelis è rosso diretto tra le nuove e vementi proteste di casa fidelis in dieci uomini e foggia immediatamente la ricerca del vantaggio si copre catalano che toglie palazzo una punta per di filippo un difensore gli ospiti però non costruiscono granché nei minuti successivi sino all'invenzione del solito gentile palla recuperata a sinistra e dal vertice alto dell'area di rigore ecco il tiro che si insacca sul lato opposto a segantini battuto ma la reazione della fidelis è rabbiosa ed immediata e vale subito il pari di filippo scodella un pallone invitante al centro da destra e nannola in spaccata riesce a beffare fumagalli e festa per il giovanissimo classe 2001 sempre titolare con il neotecnico catalano non c'è invece più tempo e nella ripresa nonostante la tanta pioggia il terreno di gioco resta perfetto per le due squadre che non cambiano però il tema tattico del match la fidelis è costretta a difendersi in inferiorità numerica e lo fa con ordine mentre il foggia ha il pallino del gioco ma non riesce a concretizzare il giovanissimo classe 2002 Kurfalidis ci prova ad inizio ripresa per due volte prima con un tiro ampiamente al lato dai 20 metri e poi ben più pericolosa con un'incursione da sinistra che trova perfetta l'uscita di segantini tanti cambi e gara spezzettata ma dal cilindro il tecnico corda pesca cittadino in campo per uno spento gerbaudo solo alla mezz'ora c'è da notare una conclusione di Gentile sull'esterno della rete dopo una corta respinta dalla difesa bianca azzurra poi al 33esimo l'episodio che cambia definitivamente il match della corte si complica la vita e rinvia troppo debolmente la sfera che finisce nei piedi di cittadino che da oltre 25 metri non ci pensa su e calcia di prima intenzione beffando l'intervento di segantini la squadra di Catalano nonostante l'innesto di Banegas sembra proprio non averne più ed in contraattacco il Foggio allo scadere ci prova con Iadaresta ma il suo pallonetto è alto nei 5 minuti di recupero non accade più nulla e la Fidelis è condannata alla quinta sconfitta consecutiva in attesa di una trasferta che appare adesso ancora più fondamentale come quella di Nocera ANTE No 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 No